...della sorella Alessandra in questa disciplina per lei totalmente nuova. L'abbiamo vista un po' titubante al termine della sua prova. E' la volta poi di Consuela Pasutto. Un'altra azzurra, una speranza italiana per il futuro nel carving. Approfittiamo di queste prime discese di semifinale per ricordare, tra l'altro, che questa è una prova generale per Roccaraso, questa della Coppa Europa, perché la Fisi, la Federazione Italiana Sport Invernali, ha accettato le altre classifiche. Grazie per averci seguito. A voi tutti, gentili e rispettatori, vi invito a seguire i programmi di RaiSport Satellite. Grazie per aver guardato il video.